benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui proseguiamo la nostra panoramica sul linguaggio javascript in particolare inizieremo a parlare di funzioni cosa sono le funzioni sono sostanzialmente un elemento fondamentale che è presente in tutti i linguaggi e che permette di andare a definire un insieme di istruzioni che possono essere richiamate di volta in volta andando a fornire dei parametri in javascript le funzioni sono introdotte dalla parola chiave function e all'interno del loro corpo quando devono restituire un valore prevedono un'istruzione di tipo return e vengono invocate utilizzando le parentesi tonde quindi nell'esempio che vediamo in questo lucido vediamo chiaramente che la funzione definita square che ha un parametro x restituisce x per x e può essere chiamata con questa invocazione quindi square aperte parentesi tonde e all'interno il valore dei parametri quindi nulla di diverso rispetto a quanto abbiamo in altri linguaggi di programmazione l'aspetto differente in javascript è che le funzioni in realtà possono essere dei valori quindi io posso assegnare a una variabile una funzione in questo caso le funzioni la funzione in sé è una funzione anonima quindi non ha un nome dopo la parola chiave function ma semplicemente è una funzione senza nome e il suo valore ovvero i parametri più il codice che serve per calcolare il valore di ritorno viene assegnato a un unico oggetto e questo oggetto poi viene memorizzato in una variabile quindi la variabile double che vediamo in questo esempio in pratica è una variabile che ha come valore la funzione che restituisce 2 per il suo parametro x quindi in questo caso 2 per x abbiamo 42 ovviamente essendo trattabili come qualunque altro valore di stringhe o interi anche le funzioni possono essere restituite come parametri possono essere memorizzate all'interno di array e quindi possono essere passati come parametri le funzioni ovviamente a questo punto possono essere utilizzate in due modi 1 facendo un'invocazione quindi se io faccio double di 2 ottengo un valore che è calcolato dalla funzione andando a moltiplicare il suo parametro per 2 e quindi ottengo come valore 4 che è il primo caso in alternativa io posso utilizzare la funzione come un valore un oggetto e quindi dicendo twice uguale a double che cosa ottengo ottengo che memorizzo dentro la variabile twice la funzione in sé notate che non ho messo le parentesi tonde e quindi il risultato quando vado a stampare twice è di andare a stampare praticamente la funzione in sé ovvero la parola che ho il function la lista dei parametri e l'elenco di istruzioni che vengono eseguite quindi quando io cerco di stampare il valore di una funzione ottengo la funzione stessa ovvero le sue istruzioni vi faccio notare che in questo caso non ho utilizzato le parentesi tonde ma sono un semplice punte virgola mentre invece in questo caso ho le parentesi tonde e quindi questa corrisponde in invocazione mentre l'altra è semplicemente una copia della funzione le funzioni come vi dicevo possono essere passate come parametri ad altre funzioni in questo caso vengono spesse chiamate funzioni di callback ovvero funzioni che vengono richiamate quando è necessario vediamo l'esempio che è mostrato qui abbiamo una funzione peak integers a cui passiamo un valore n e una funzione di callback questa funzione di callback verrà chiamata all'interno della nostra funzione peak integers quando scorrendo gli interi da 0 a n dobbiamo scegliere se andarli a stampare quindi andarli a mettere nel risultato quindi cosa succede? succede che inizializzo una variabile come stringa vuota faccio un ciclo per i che va da 0 a n vedete che la scrittura è sostanzialmente identica a quella che abbiamo in c l'unica differenza è questo let i che va a definire la variabile i e usando la parola chiave let sostanzialmente definisce una variabile che ha come visibilità esclusivamente questo ciclo for quindi i non sarà visibile all'esterno del ciclo for e poi per ogni iterazione chiama la funzione test callback e se la funzione test callback restituisce un valore vero allora accoda il valore i al risultato altrimenti passa alla prossima iterazione e alla fine restituisce il risultato res come può essere fatta la funzione di callback? ad esempio la funzione 3 è una funzione che restituisce sostanzialmente vero se il modulo della divisione di x con 3 è uguale a 0 quindi se è un multiplo di 3 è falso altrimenti per cui se chiamo il metodo la funzione pick integers passando 12 e l'oggetto 3 l'oggetto funzione cosa succede? che per i numeri che vanno da 0 a 12 verrà chiamata questa funzione quindi quando qui faccio questo test callback vedete che mettendo le tonde sostanzialmente uso l'oggetto funzione e faccio una chiamata a quell'oggetto funzione e quindi andrà a stampare tra i numeri compresi tra 0 e 12 quelli che sono multipli di 3 quindi 0, 3, 6, 9 e 12 0 perché ovviamente quando io faccio la divisione tra x, 0 e 3 ottengo 0 e il resto in questo caso è anche lui 0 in javascript 6 è stata introdotta una nuova sintassi che si chiama arrow function ed è una modalità che permette di andare a scrivere le funzioni in maniera più compatta la sintassi è quella che vediamo lì in alto quindi sostanzialmente ho i parametri freccia e il body dove i parametri possono essere un unico parametro quindi l'identificatore oppure una sequenza di parametri una lista di parametri comprese tra parentesi tonde e il corpo può essere o una semplice espressione oppure una serie di istruzioni racchiuse in un blocco di codici quindi tra graffe nell'esempio che vediamo sotto abbiamo inv che è dichiarato come x freccia 1 su x vedete che in questo caso ho un unico parametro e il corpo del risultato è una semplice espressione quindi sostanzialmente quando faccio l'invocazione della funzione inv passando 5 otterrò 0,2 la funzione add invece è dichiarata in questo modo quindi in questo caso ho due parametri a e b e quindi li devo racchiudere tra parentesi tonde ho la freccia e poi ho il corpo della funzione racchiuso tra graffe vi faccio notare che in questo caso avrei potuto tranquillamente utilizzare un'espressione ma per farvi vedere che in realtà ci sono le due alternative per cui quando vado a chiamare add 12 e 30 ottengo come valore 42 un aspetto importante che viene introdotto dalle funzioni è quello di definire quello che si chiama un ambito lessicale ovvero uno spazio di nomi che è separato dagli altri quindi quando io vado a definire una funzione le variabili definite all'interno della funzione vivono all'interno di questo ambito e quindi in due funzioni distinte io posso avere variabili che hanno lo stesso nome senza che queste vadano in conflitto al di fuori delle funzioni esistono le variabili che vengono dette globali quindi al di fuori delle funzioni io posso dichiarare una variabile quella variabile è una variabile globale ed è visibile da tutto il codice e quindi tutte anche le funzioni è chiaro che quando io utilizzo le variabili globali queste sono utili perché sono condivise quindi tutti possono fare accesso senza particolari problemi ma pongono anche un problema perché non so alla fine esattamente chi sta utilizzando una variabile e chi ci ha scritto per ultimo e quindi quando ho problemi di funzionamento di un sistema complesso in cui ho tante funzioni e tante variabili globali è difficile andare a capire chi ha utilizzato la funzione quindi andare a capire dove sta l'errore le variabili che non sono globali vengono dette locali e sono quelle per l'appunto definite all'interno di un contesto il contesto, vi dicevo, sono definiti dalle funzioni quindi ogni funzione quindi la coppia di graffe che segue la definizione della funzione rappresenta uno scope a partire da Java 6 anche i blocchi di codice quindi tutte le coppie di graffe che ho all'interno di una funzione definiscono quello che è uno scope per cui ad esempio le graffe che rappresentano il corpo di un ciclo for o un ciclo while anche queste definiscono uno scope e quindi posso definire al loro interno delle variabili e queste variabili sono separate da quelle che sono definite in altri blocchi esempio di contesti e di scope in questo esempio noi abbiamo una funzione fg che definisce al suo interno una variabile x a cui assegna 3 poi assegna 2 alla variabile y e poi restituisce x più y cosa succede? allora x ovviamente è una variabile locale perché è definita all'interno della funzione y non è definita da nessuna parte javascript in maniera automatica per default quando facciamo riferimento a una variabile che non è definita automaticamente la definisce nel contesto globale quindi menzionando y quindi assegnandogli un valore senza averla definita prima automaticamente y viene creata come variabile globale per cui all'uscita della funzione fg ovviamente la variabile x scompare perché non è più visibile mentre la funzione della variabile y continua a essere visibile e quindi sarà accessibile per cui se andiamo a stampare quello che succede è che se cerchiamo di andare a far riferimento a y prima di chiamare la funzione g mi dice che y non esiste correttamente quindi mi dice che è undefined dopodiché chiamo la funzione g che mi darà anche un risultato 5 quindi 3 più 2 a questo punto se faccio la stessa istruzione di prima quindi cerco di stampare il valore di y ottengo 2 perché? perché implicitamente la funzione g ha creato questa variabile globale y questo è un meccanismo di solito molto pericoloso per cui quando andiamo a scrivere del codice normalmente gli ambienti di sviluppo ci segnalano come un errore il fatto di utilizzare una variabile senza averla prima dichiarata perché questa automaticamente diventa una variabile globale e quindi sostanzialmente rischia di andare in conflitto con altre variabili con lo stesso nome che sono utilizzate in altre funzioni quindi in generale la norma di programmazione che ci dà buona sicurezza è quella di andare a definire le variabili locali all'interno di una funzione e utilizzare esclusivamente queste senza andare a interferire con variabili globali è possibile chiedere a javascript quindi al compilatore javascript di fare un controllo per noi per cui se noi come prima riga immediatamente all'inizio del corpo della funzione andiamo a scrivere use strict automaticamente javascript andrà a fare un controllo per noi verificando che le variabili che utilizziamo siano prima state dichiarate per cui la variabile x1 ovviamente dichiarata ma la variabile y1 che qui non è dichiarata sostanzialmente ci produce quello che è un errore quindi questa funzione sostanzialmente non verrà eseguita perché l'uso della variabile y1 non dichiarato all'interno di una funzione che utilizza lo strict mode è un errore di sintassi come sostanzialmente in c se io ti ergo di utilizzare in c una variabile non dichiarata il compilatore mi dà un errore in java se non dico nulla quella variabile viene creata al volo e aggiunta a quello che è il contesto globale se utilizzo invece lo strict mode mi viene segnalato correttamente un errore per questo motivo per avere contesti separati in java talvolta si utilizzano quelle che si chiamano delle scoping function ovvero delle funzioni che sostanzialmente non hanno una grande utilità nel senso che vengono dichiarate chiamate una volta e poi scompaiono in cosa consistono sostanzialmente le scoping function consistono in dichiarazioni di funzioni racchiuse tra parentesi tonde e immediatamente invocate vedete questa coppia di tonde la seconda in pratica corrisponde a un'invocazione di che cosa? della funzione che è definita prima prima che cosa è fatta? è definita una funzione che in pratica è una funzione senza nome quindi il risultato cos'è? andare ad eseguire il codice che sta all'interno della funzione ma non come se fosse eseguito a livello globale quindi lasciando tutte le variabili definite ma all'interno di un contesto di nomi che è identificato da quella funzione per cui tutte le variabili locali definite dentro la funzione una volta eseguite scompaiono e quindi tutto quello che viene fatto dentro questa scoping function in pratica non lascia traccia all'esterno quindi non lascia funzioni definite che contenevano i valori magari intermedi calcolati dalla funzione ma semplicemente tutti i valori che stavano lì dentro automaticamente scompaiono perché termina la funzione per cui ad esempio in questo caso ho una scoping function che definisce una variabile x assegna x il valore 3 e poi stampa una volta terminata l'esecuzione di questa funzione la variabile x non esiste più perché? perché è una variabile che ha come contesto di visibilità esclusivamente questa funzione e quindi questa variabile interferisce con altre variabili x che possono essere definite in altre funzioni un secondo aspetto importante del linguaggio java che è presente in tanti altri linguaggi di programmazione sono gli array gli array in java possono essere creati in due modi utilizzando il meccanismo di costruzione ovvero array con parentesi tonde e poi la lunghezza oppure andando a denumerare tutti gli elementi racchiusi tra quadre come ad esempio var a uguale aperte quadre 1 2 3 4 eccetera eccetera chiusa quadra è possibile anche utilizzare e definire degli array con dimensione nulla quindi array di 0 oppure semplicemente aperta e chiusa quadra che è l'equivalente gli array come tutti i linguaggi di programmazione permettono di accedere a un elemento dato su indici utilizzando le parentesi quadre oltre a quello che è disponibile nei linguaggi di programmazione base come ad esempio c in javascript è disponibile la lunghezza dell'array che è accessibile tramite la proprietà length quindi quando devo andare a fare un'iterazione su un array ad esempio per calcolare la media come in questo caso posso fare un ciclo per i che va da 0 a array.length in questo modo io ho la garanzia che il mio ciclo non esca dai limiti dell'array sugli array è possibile andare a chiamare dei metodi esattamente come potevamo chiamare dei metodi sulle stringhe o sui numeri la differenza speciale nei metodi degli array in javascript è che questi metodi sostanzialmente permettono di andare a modificare gli array mentre in tanti linguaggi di programmazione C o Java la dimensione degli array è fissa una volta creati hanno una dimensione fissa in javascript è possibile andare a aggiungere elementi all'interno di un array lo possiamo fare essenzialmente tramite il metodo che si chiama push che permette di aggiungere un nuovo elemento in fondo all'array l'elemento pop fa l'operazione contraria ovvero prende l'ultimo elemento e lo toglie dall'array abbiamo poi la possibilità di andare a stampare i contenuti di un array quindi tutti gli elementi con uno specifico separatore e questo è quello che fa il metodo join per cui nell'esempio che vediamo qui names.push di jane sostanzialmente non fa altro che aggiungere jane come quarto elemento del nostro array e poi il metodo join riporta gli elementi dell'array separati da punto e virgola e spazio esattamente come vediamo qui questo è un esempio un po' più articolato di uso degli array per andare a implementare l'algoritmo che è il setaccio di Eratostene che è un algoritmo che serve per andare a ricavare tutti i numeri primi tra un numero dato e un numero massimo non lo commento più di tanto ve lo riporto qua come esempio di gestione degli array un paio di annotazioni viene definito un array is prime come array di dimensioni n più 1 il quale viene riempito con valori tutti uguali a true visto che in javascript non esiste un tipo predefinito per le variabili ma una variabile assume valori diversi momenti diversi e sostanzialmente il tipo di una variabile è determinato dal tipo del valore che contiene quando io vado a creare un array i suoi elementi sono sostanzialmente vuoti, non definiti quindi quello che devo fare una volta creato un array è andare a definire i suoi elementi il metodo fill permette per l'appunto di andare a riempire tutto un array con un certo valore predefinito qui troviamo un ciclo che sostanzialmente va a vedere per tutti gli elementi se sono primi o meno e se sono primi vanno a aggiungere l'elemento, il nuovo numero all'array dei numeri primi che vedete è stato inizializzato qui quindi l'unico numero primo inizialmente presente è l'1 e poi dal 2 in avanti vado a verificare quando trovo il numero primo sostanzialmente vado a mettere come falso la posizione k dell'array prime dove k rappresenta tutti i multipli del valore m che ho appena scoperto essere primo un altro metodo molto importante utilizzato all'interno degli array è il metodo sort che permette di andare a prendere una array e ordinarlo ad esempio qui vediamo come tramite il metodo split che è un metodo della classe string se ricordate che permette di andare a spezzettare una stringa in corrispondenza di un certo separatore chiamo il metodo sort su questo array e ottengo un ordinamento alfabetico vi faccio notare che la T maiuscola che compare qua viene prima della B perché le maiuscole nell'ordinamento standard che segue il lessico normale le maiuscole precedono tutte le minuscole attenzione che il metodo sort che cosa fa? automaticamente converte tutti gli elementi in stringa prima di ordinarli questo è un comportamento un po' particolare e strano perché la conversione se vediamo nell'esempio successivo non è strettamente necessaria quindi ho tutti i numeri interi ma per sicurezza automaticamente JavaScript converte tutti gli elementi in stringa e poi provvede a fare l'ordine questo ci dà dei risultati che sono un po' strani per cui ad esempio scopriamo che 10 e 12 vengono prima di 2 questo perché? perché se andiamo a ordinare le stringhe 1 0 e 1 2 la stringa 1 2 viene prima della stringa 2 perché il carattere iniziale 1 precede il carattere 2 ovviamente questo non funziona quando noi vogliamo andare a ordinare dei numeri perciò è necessario utilizzare una variante del metodo sort che accetta come parametro una funzione la tipica funzione di callback che viene utilizzata all'interno dell'algoritmo di ordinamento per verificare se due elementi devono essere o meno scambiati la funzione nel caso specifico per dei numeri è quella che vediamo qua quindi function a,b return a-b la convenzione di queste funzioni è quella che è universale quando devo andare a confrontare due elementi sostanzialmente abbiamo un valore maggiore di 0 se il primo elemento è più grande del secondo un valore uguale a 0 se i due elementi sono uguali e un valore minore di 0 se il secondo elemento è più piccolo del secondo scusate se il primo elemento è più piccolo del secondo con questa convenzione l'algoritmo sort è in grado di andare a fare l'ordinamento per cui in questo caso invece di andare a convertire richiama questa funzione che non fa altro che fare la differenza tra i numeri e quindi abbiamo l'ordinamento che ci saremmo aspettati da un array di numeri una variante di questa funzione è quella che vediamo qua sotto utilizzando quelle che sono le arrow function quindi a,b freccia b-a in questo caso vi faccio notare che ho utilizzato l'operazione inversa quindi ho fatto b-a invece che a-b questo sostanzialmente comporta un ordinamento che invece di essere crescente come l'ordinamento normale è un ordinamento decrescente come vediamo nell'output sottostante altre operazioni che io posso fare sugli array sono quelle di andare a estrarre delle sottosequenze in particolare il metodo slice permette di andare a creare una copia di un array che è un sottoinsieme degli elementi che stanno nell'array di partenza ha due parametri begin ed end che danno l'elemento iniziale e l'elemento finale che è la posizione dell'elemento finale che normalmente è esclusa se io ometto il secondo parametro ovvero end automaticamente si assume che sia uguale alla lunghezza quindi l'indice dell'ultimo dell'elemento che sarebbe dopo l'ultimo e quindi sostanzialmente tutti gli elementi fino all'ultimo se si omette begin il risultato è che questo venga assunto essere uguale a 0 per cui paradossalmente chiamando slice senza parametri il risultato è di avere un duplicato dell'array di partenza questo è molto utile soprattutto quando devo andare a fare operazioni su un array che lo possono alterare significativamente e voglio mantenere inalterato l'array di partenza esiste un altro metodo che si chiama splice che invece di andare a estrarre una sottosequenza degli elementi che stanno in un array va a eliminare questi elementi e a rimpiazzarli con altri il metodo splice sostanzialmente usa due parametri sono uno begin che è il primo elemento, il secondo account che mi dà il numero di elementi da andare a sostituire e poi ci sono tutto un numero di parametri, tutti quelli che seguono il conteggio che sostanzialmente vengono sostituiti a quelli che si trovano nell'intervallo che è stato determinato da begin account qui abbiamo alcuni esempi di come funzionano questi due metodi per cui ad esempio partendo da un array che contiene i numeri da 1 a 10 se io faccio uno slice 1, 4 vuol dire che vado a prendere l'elemento in posizione 1 come primo elemento fino all'elemento con indice 4 e quindi in pratica ottengo 2, 3 e 4 perché ovviamente l'elemento con indice 1 è il secondo del nostro array se io faccio splice 2,1 vado a prendere l'elemento con indice 2 0, 1, 2 quindi il 3 e lo sostituisco con questo elemento e quindi il risultato è che vado a stampare 1, 2 e il 3 è stato sostituito con questa stringa da questo esempio vediamo come negli array in javascript non c'è nessun vincolo ad avere elementi che siano omogeni mentre negli altri linguaggi di programmazione c o java gli array sono fatti per contenere elementi che siano omogenei cioè tutti dello stesso tipo in javascript questo non è più un requisito perché? perché in generale le variabili non hanno un tipo predefinito quindi gli elementi dell'array non devono avere per forza un tipo comune e unico un'altra operazione che facciamo qua sotto vedete creare una copia dell'array di partenza andare a modificarlo in particolare l'elemento con indice 3 e stampare l'array di partenza e la copia vedete che l'array di partenza è sempre lo stesso mentre invece la copia avrà il valore 4 sostituito quindi la copia vediamo come è stata utilizzata in questo caso per creare un nuovo array che viene modificato senza andare a toccare l'array di partenza altre operazioni che si possono fare con gli array il mapping la funzione map il metodo map chiamato su un array permette di andare a trasformare tutti gli elementi di un array in qualcos'altro e creare sostanzialmente con questa versione trasformata un nuovo array il metodo filter permette di andare a selezionare un sotto insieme degli elementi dell'array di partenza e creare un nuovo array che sia quello che contiene gli elementi in questo modo selezionati e poi abbiamo il metodo join che sostanzialmente l'abbiamo visto in un esempio precedente quello che permette di andare a creare una stringa che contiene tutti gli elementi concatenati l'uno con l'altro tramite un separatore esempio abbiamo di nuovo il nostro array con i numeri da 1 a 10 l'operazione di map in questo caso viene chiamata andando a fare x freccia x per x quindi sostanzialmente per ogni elemento dell'array di partenza viene creato nell'array di destinazione un elemento che è il quadrato di quello di partenza e quindi invece di avere 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 abbiamo 1, 4, 9, 16 fino a 100 l'operazione di filter e anche questa accetta come parametro una funzione e questa funzione in questo caso va a selezionare soltanto gli elementi che hanno come risultato come resto della divisione per 2 0 ovvero i multipli di 2 e poi l'operazione di join che sostanzialmente prende gli elementi dell'array e li va a stampare separati da un determinato sequenza di caratteri il separatore il prossimo argomento è decisamente più complesso e riguarda gli oggetti gli oggetti sono un elemento fondamentale in javascript in realtà sia gli array che i numeri che le stringhe che le funzioni sono tipi particolari di oggetti in più gli oggetti in javascript possono essere utilizzati in maniera molto più estesa e molto più ampia per andare a rappresentare dei dati diversi ma gli oggetti saranno l'oggetto di una prossima lezione